Come la sconfitta L'errore che l'avete vista? Tuoi errori individuali Vabbè capita di sbagliare comunque Abbiamo già fatto bene Sì ho saputo che allora avevo un po' più lo stesso palio Però parlando con Calabrese mi diceva che eravate stanchi oggi Sì sì ci hanno fatto correre i primi minuti quindi eravamo già stanchi Però abbiamo retto 2 a 0 per i primi minuti Però per la stanzia Poi lo stai attaccantino in me Nunzio difenditi perchè qui la cosa non va bene Diciamo che chi deve fare il palloneo se non lo fa arrivare in attacco Comunque sta fermo e non corre e non la passa Dico già comunque dovrebbe essere il regista Ho fatto l'assist quindi più uno Diciamo che anche se comunque abbiamo già dato bene Non si vuoi dire che abbiamo giocato male Più che altro abbiamo trovato di fronte con una squadra Abbiamo pareggiato la parte e colpa Ma voi siete d'accordo? Io non ricapitano anche un... Poi Citi Sussu che ha giocato la merda questa partita Il Gesù non c'era completamente Vabbè prossimo turno avete i Borracios Vabbè prossimo turno avete i Borracios Ma i Munitas che hanno fatto? Hanno perso Gli Stavdi hanno vinto Hanno vinto Sì sì E vabbè dai rimaniamo qua Rimaniamo... la classifica è sempre male Però avete la soddisfazione di essere andati... Avete la soddisfazione di essere andati avanti in Coppa Eh? Sì almeno quello Vabbè perchè comunque non gioca qua Ci porta fortuna Vabbè dai però Vabbè E anche lì venga a vedere Stocca sa dormire Ecco E noi vinciamo Dai ragazzi vi saluto allora ci vediamo alla prossima Ok ciao e forza Juve sempre Ciao ciao Galacticos strani a vedervi senza patate Per questo mi stranizza Ma qua ti capisci il risultato noi non abbiamo perso Non abbiamo pareggio Pareggio ma è sempre un fatto positivo Un fatto positivo ma è positivo un pareggio Non è un punto guadagnato ma due punti persi Giusto Giusto Non l'ho mai visto così arrabbiato Auro Non è da lui Comunque Si è mangiato il gol della vittoria direi Si è mangiato il gol della vittoria Ma dobbiamo dire dobbiamo... La brutta notizia è che ci hanno detto Una parata è parunosa Per mettere bufiamo Ci hanno detto quelli del campo che gli dobbiamo ripagare una porta Perchè abbiamo distrutto Sì Poi vabbè hanno fatto due tiri Noi abbiamo fatto 145 mila Andrei a rivedere il po' stesso palla Vatti a rivedere i video Sette palla Vabbè però comunque erano aggressivi Noi eravamo noi Noi eravamo noi Comunque Ci rifarà La fortuna vostra Siete con l'amaro in bocca La prossima è alle 3 Il sole porterà consigli Siamo con l'amaro in bocca Siamo con l'amaro in bocca Ecco buon farà come si fa a influenzare Come ne andrei? Dopo questa? Guarda Per un momento mi è sembrato di rivedere Armetta Mi torno a rivedere Armetta Mi torno a rivedere Armetta Mi torno a rivedere Armetta Salute Opie Tanto non se la vedrà mai Manca Massimiliano Vero La punta Forse mancava un po' la punta Chi è stato l'autore dei gol? Gli autori dei gol chi sono stati? Tutte due? Yes Vabbè no La fortuna è che è mancato Massimiliano Se no avremmo perso Addirittura Io così non ho sempre una per tu No era ancora infortunata La colpa vera Infatti mi sono ripresi in estrella Ecco ora diciamo perché abbiamo perso Aspetta Tiro Pallo Tiro L'altra volta L'altra volta non ci hanno dato le patatine della vittoria Io ve l'avevo detto Ci hanno dato le patatine e le crocchette Le crocchette hanno portato Infatti io ho detto Non vorrei che questa La crocchette la ha sconfitta Non mi compareggio Non mi compareggio Non mi compareggio Non mi compareggio Comunque ha visto che eravate contenti per la sconfitta dei Bulla Boys Nooo 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 Riccardo te lo dica Nooo 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 Va bene Va bene Prossima Moitos Io ho il patrimonio Nooo Nooo Lancio già un appello Lancio già un appello Lancio già un appello Lancio già un appello A Stechini Che credo sia un appello Ci serve un portiere Siete senza portiere Siamo senza portiere Siamo senza portiere Quindi comincia a sbagliare la voce Faro io Che è l'unica cosa che non può fare Anzi il Morello Sì Sì Con un braccio Avete una settimana di tempo per trovarlo Avversarie permettendo Per trovarlo loro Perchè mi sono rotto le palle Nooo 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 Vi saluto ragazzi Alla prossima Ciao 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 ciao